Le proteine possono essere categorizzate sulla base della purezza e sulla velocità di assimilazione. Proviamo quindi proteine più o meno pure e con un'assimilazione più o meno veloce. Ad oggi è possibile avere tutte queste tipologie in un solo prodotto. Ciao a tutti, sono il dottor Davide Arrigoni e oggi parleremo di 4Source, un prodotto incasazionale. Le proteine possono essere divise in quattro categorie principali, le caseine, le whey, le isolate e le idrolizzate. Ognuna di esse si divide per velocità di assimilazione e purezza. Partendo con le caseine, sono le proteine a lento rilascio, quindi ad assimilazione più lenta. Alcune ci vogliono addirittura fino a 8 ore per venire completamente assimilate. In genere vengono assunte prima di andare a letto. Successivamente troviamo le whey, che sono le proteine più diffuse anche per via del costo e del rapporto qualità-prezzo. Perché con un costo contenuto si ottiene una percentuale proteica abbastanza elevata, circa tra i 70 e gli 80 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. L'assimilazione è relativamente veloce, ci vuole comunque molto di meno rispetto alle caseine per essere assorbite. Troviamo poi le isolate, che sono le proteine più pure al mondo, sul mercato, con una percentuale proteica di oltre il 90%. Sono all'assimilazione molto più rapida sia delle caseine che delle whey e hanno un costo un poco più elevato, proprio perché necessitano di vari processi di isolamento e filtrazione per avere una materia così pura. Infine troviamo le proteine idrolizzate, che sono quelle tecnologicamente un poco più avanzate, sono predigerite, quindi hanno una digestione estremamente più veloce, che inficia in modo molto inferiore sull'apparato gastrointestinale digerente. Il team di ricerca e sviluppo di Tsunami Nutrition ha creato un prodotto che contiene tutte queste tipologie di proteine. Troviamo quindi le caseine micellari, le whey concentrate, le isolate e le idrolizzate. E voi vi starete chiedendo, ma perché c'è bisogno di inserire tutte le proteine in un solo prodotto? In realtà esistono vari ambiti d'applicazione, ad esempio la mattina, quando è già tutta notte che non si assumono proteine, si è quindi in una sorta di debito proteico, è spesso difficile comunque a colazione fare un pasto altamente proteico e inoltre di spuntini, ad esempio quelli di metà mattina, molte persone non riescono a farli. Quindi si arriva fino al pranzo che è dalla sera prima che non si assume un quantitativo proteico adeguato. Ecco, quindi assumere questo prodotto la sera prima di andare a letto e la mattina garantisce quasi 12 ore di copertura totale proteica. Oltre a ciò in caso di diete ipocaloriche, quindi quando si ha dieta o in caso di digiuno intermittente, ma anche solo di digiuno di qualche ora, avere un apporto proteico costante è senz'altro un'ottima cosa, sia per la sintesi proteica che per evitare il catabolismo muscolare. Le proteine e le sostanze che compongono questo integratore sono della massima qualità. Troviamo infatti marchi certificati come Carberry, OptiPep, Lattomin e Isolac. Oltre a ciò, peraltro, sono inserite ulteriormente all'interno di questo prodotto due aminoacidi molto importanti, quali la glutamina e l'arginina. Ma non è finita perché per aumentare ancora di più il gratuito assorbimento e facilitare la digestione, sono state inserite due sostanze. La prima è Digenzim, un complesso di enzimi digestivi, ognuno con un ruolo specifico, che permettono di aumentare molto la digeribilità e l'assimilazione delle proteine contenute all'interno. Il secondo, invece, è Lactospor, che è un insieme di probiotici che aiutano a supportare il tratto gastrointestinale. Force Source è un prodotto ottimo per chi si allena in palestra o, in generale, per chi si allena in modo abbastanza intenso, perché permette di recuperare in modo molto più veloce e, in generale, in modo più completo tra un allenamento e l'altro, in quanto un rilascio continuo e completo di aminoacidi peraltro con un completo spettro aminoacidico permette una migliore sintesi proteica, un minor catabolismo muscolare, e quindi allo stesso tempo preservare la massa muscolare e stimolare la sintesi di nuovo tessuto. Oltre a questo, come abbiamo già detto, in caso di diete ipocaloriche, quando si ha diete, quando si sta cercando di perdere peso ma di non perdere troppa massa muscolare, questo prodotto, questo blend proteico, permette di avere un rilascio costante fino a 7 ore di un blend aminoacidico completissimo e quindi preservare la massa muscolare e favorire il dimagrimento. Grazie per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti